Il coronavirus ha cambiato le abitudini dei consumatori, ha cambiato il modo di fare la spesa. Decolla lo shopping online con molti cittadini che preferiscono farsi portare i pacchi direttamente a casa, ma anche quelli che si recano direttamente al supermercato rispettano le code e le distanze. Provvedendo a mettere le distanze di sicurezza, stiamo provvedendo a tutto. Abbiamo provveduto per i reparti, per i pannelli, tutto. Tutto quello che c'è bisogno lo faremo. E grazie ai nostri clienti che ci aiutano sempre ad andare avanti. Ha fatto uno slancio maggiore anche per la spesa online, con tante richieste che arrivano. Sì, molto. Hanno conosciuto parecchie persone la spesa online che prima non conoscevano la comodità di questa spesa, che oggi magari sarà il futuro per molte persone che non possono uscire, che non hanno i figli che li possono accompagnare e chi non guida.